Abbiamo ad esempio verificato attraverso gli esiti delle attività di indagini che vi erano delle promesse di assunzioni, ovvero delle assunzioni di soggetti vicini e pubblici funzionari. Vi erano delle promesse per esempio di vendite di immobili a prezzi particolarmente vantaggiosi a favore del pubblico ufficiale. Quindi c'erano anche degli interessi immediati di carattere patrimoniale che venivano conseguiti dai pubblici ufficiali. L'Ande Desolate non è solo l'inchiesta che segna il capolinea della legislatura regionale sotto la presidenza di Mario Liverio, è molto di più. È l'indagine che consente a Nicola Gratteria al suo pool di mettere a nudo in maniera tanto cruda quanto provata i vizietti di una burocrazia calabrese corrotta e corruttibile, che la politica sostiene pubblicamente di voler combattere, salvo poi servirsene in maniera spregiudicata. L'Ande Desolate è una sorta di paradigma, anzi è il punto più alto raggiunto da una serie di indagini che hanno svelato il ventremolle della pubblica amministrazione dei palazzi calabresi, nei quali sembra ormai assodato. Così fan tutti o quasi. Ma se il resto è erba incolta, cacate mai viste, l'aerostazione è bombardata, di che stiamo parlando? Quando questi parlavano, certificavano i collaudatori e anche questi funzionali della regione, certificavano che l'opera era il 95%, si alzava l'elicottero della Guardia di Finanza e vedeva che al posto dell'elisoccorso c'era una pista interrabattuta, mentre in realtà questi dichiaravano addirittura che c'erano lampadine. Quando parliamo dell'opera di Lorica, loro dicevano che c'erano le cabinovie e queste cabinovie erano ancora in Svizzera. Quante altre scalea e Lorica esistono in Calabria? Quante altre volte la politica, che in l'Ande Desolate si chiama Oliverio, indagato, o Adamo, Bruno Bossio, Chiuto, non indagati, hanno condizionato l'erogazione di un finanziamento, addirittura la consegna di un'opera, e nella regione delle eterne incompiute, tutto dire, per motivi di carattere politico ed elettoralistico. Non hanno fatti i conti che la ricreazione è finita. Già, la ricreazione è finita, ripete Nicola Gratteri, una sorta di mantra, un invito a capire, reiterato, ad una classe dirigente, quindi politici e burocrati, che pensa troppo spesso esclusivamente alla conservazione del potere e del proprio tornaconto. Una classe dirigente di sinistra e di destra, che è inquinato tutto in una terra dove esiste sì un altro grande male, l'Andrangheta, che però troppo a lungo è divenuto un facile alibi. Domani sarà davanti al GIP Pietro Carè per l'interrogatorio di garanzia e il Presidente Oliverio, finita al soggiorno obbligato nella sua San Giovanni in Fiore. Sarà accompagnato dal suo legale di fiducia l'avvocato Enzo Belvedere, che si prepara già al ricorso al Tribunale del Riesame. Al di là dei profili penali, però, quest'inchiesta, una sentenza di carattere etico su certi comportamenti della gestione della cosa pubblica in Calabria, l'ha già scritta. Pietro Comito per la Cineus 24. Pietro Comito per la Cineus 24.